Adesso attenzione, allora vogliamo fare un po' di pubblicità a un tuo social E come fai a farti pubblicità a un tuo social? Ora prendiamo quelli che usano TikTok I TikTokers, si chiamano così, non lo so Però se hai TikTok e vuoi magari avere un po' di pubblicità te la faccio io, a gratis Come devi fare? Allora apri il tuo profilo TikTok Mi aggiungi adesso I più veloci, insomma darò il loro profilo in radio Io ci do anche un'occhiata, ovviamente mi metto a seguirlo anch'io Così ti faccio un po' di pubblicità Ma devi farlo adesso, subito, perché abbiamo tempo a un paio di dischi E dopo il più veloce verrà premiato con questo piccolo spot pubblicitario Fallo subito, vai su TikTok, cerchi Mauro Vai, mi segui E io seguirò te e ti farò un po' di pubblicità in radio